Ciao a tutti! L'invidia è la sostanza con cui interagiscono le persone narcisistiche e tossiche e non si manifesta solo nella sua versione più ovvia, dove siamo abituati a vederla in maniera diretta. Si manifesta in maniere, in comportamenti a volte molto subdoli, molto indiretti. L'invidia è un'emozione come ogni altra nel nostro compasso emotivo e come tutte le emozioni dolorose ci indica che qualcosa non va nella nostra vita, qualcosa è disallineato, qualcosa sta venendo danneggiato, un nostro comportamento, azione, modo di pensare sta andando contro il benessere nostro e universale. Nello specifico l'invidia ci punta la direzione verso la realizzazione del nostro potenziale, del nostro specifico potenziale e ci dà un'indicazione di quanto siamo lontani da questa realizzazione. In particolare l'invidia utilizza lo specchio riflesso della nostra realtà esteriore per darci degli esempi e puntarci verso ciò che indica il nostro potenziale, l'esempio da seguire per realizzare il nostro potenziale. Per questo motivo sentiamo l'invidia solitamente associata proprio a cose, persone ed esperienze che rappresentano l'espressione vera del nostro potenziale. E quindi quando sentiamo invidia la cosa più importante da fare è rimboccarsi le maniche, mettersi a lavorare, capire, studiare, conoscere, imparare, vedere cosa nella nostra vita va aggiustato, modificato, trasformato, imparato, cresciuto, evoluto per allinearci verso quel potenziale. Ma non è questo che fanno le persone tossiche, soprattutto narcisiste, assolutamente no, anzi ovviamente no, anzi come tutte le emozioni negative è un'altra scusa per creare sofferenza. E nello specifico le persone tossiche e soprattutto narcisistiche utilizzano l'invidia per fare l'esatto opposto di quello per cui serve l'invidia. La utilizzano per farsi del male, per crearsi una vita di sofferenza. Come? Facendo l'esatto opposto anziché seguendo l'ispirazione, l'esempio, imparando la capacità da seguire per evolversi e trasformare, le persone tossiche e narcisistiche distruggono proprio quelle cose di cui hanno bisogno per realizzare il proprio potenziale, per migliorare la propria vita. Quindi spesso distruggono, annientano, targetano proprio le persone che fanno loro da esempio, che le ispirano a migliorare. Oppure quelle capacità, quelle conoscenze, quegli strumenti, quelle cose che gli servono per evolversi nella realizzazione del loro potenziale. In questo modo, anziché avvicinarsi verso il loro potenziale, le persone tossiche e narcisistiche si allontanano ancora di più, rendendo ancora più acerbante quella sofferenza e di conseguenza ovviamente avranno ancora più invidia, quell'invidia diventerà ancora più focosa, ancora più bruciante e continueranno quindi il ciclo vizioso. L'invidia soprattutto quando si manifesta in gruppi, in società, in sistemi o addirittura in internazioni, quando viene utilizzata in questo modo tossico narcisistico, ha il potere di creare povertà e scarsità e di mantenere nella miseria l'intero gruppo di persone. Mi viene in mente questa metafora molto famosa del secchiello di granchi, dove viene utilizzato come esempio un secchiello pieno di granchi. I granchi hanno tutta la capacità di uscire dal secchiello, hanno la forza di arrampicarsi sul bordo ed uscire, ma ogni volta che un granchio inizia ad arrampicarsi per uscire dal bordo, gli altri granchi gli si aggrappano facendo peso e tirandolo giù e di conseguenza nessuno esce e tutti i granchi muoiono dentro il secchiello. Questo è esattamente quello che succede quando una società, un gruppo di persone o addirittura un'intera informazione, è malata di questo comportamento tossico verso l'invidia. Ma ora vorrei parlare della manifestazione meno ovvia, molto più sudola dell'invidia, che è l'invidia invertita ed è altrettanto distruttiva e dannosa, ma meno facile da vedere. Ci ho messo anch'io tantissimo tempo a vederla in me stessa e quanto questo stava distruggendo la mia vita, non solo la mia vita, ma anche delle persone che hanno bisogno di me o che contano su di me. Della versione inversa dell'invidia, cioè come funziona? Non sempre l'invidia viene messa in maniera esterna, in maniera abusiva come fanno i narcisisti. Se siamo più persone che tendono ad esempio alla codipendenza, al sacrificio, possiamo mettere in atto un'invidia invertita, dove abbiamo ad esempio internalizzato una realtà invidiante nei nostri confronti durante la nostra crescita, socializzazione, nella nostra famiglia, cultura, educazione e origine, abbiamo imparato a mettere in atto invidia verso noi stessi, o meglio comportamenti di invidia tossica verso noi stessi. Ma aspetta un attimo, com'è possibile mettere in atto questi comportamenti di invidia tossica verso se stessi? Beh, se ad esempio abbiamo imparato a crescere con persone che ci invidiavano e in maniera tossica, che quindi cercavano di distruggere tutto il nostro potenziale, le nostre capacità, abilità, conoscenze, la nostra luce, appunto per non migliorare se stesse, possiamo aver internalizzato e assorbito un meccanismo dove impariamo noi stessi a distruggere il nostro potenziale, la nostra luce, le nostre capacità per attutire l'invidia delle altre persone. E devo ammettere che questo è un comportamento che io ho imparato a mettere in atto inconsciamente. Ad esempio, alcuni modi con cui possiamo mettere in atto questo comportamento è che sabotiamo i nostri stessi successi. Quando iniziamo ad avere tanto successo, potere, brillantezza, quando iniziamo ad avere tanta abbondanza, iniziamo a sabotare noi stessi. Siamo noi stessi che ci ostacoliamo, ci blocchiamo, ci fermiamo dal nostro successo. Perché? Per la paura di essere invidiati in quella maniera tossica, per la paura delle persone che cercano di distruggerci, che cercano di annientarci, che cercano di ucciderci per la nostra brillantezza, per la nostra abbondanza, per la nostra luce e il nostro successo. Oppure ci sminuiamo, diventiamo estremamente modesti, ci rimpiccioliamo, ci abbassiamo, cerchiamo di metterci al di sotto degli altri per paura di provocare quelle persone che si sentono inferiori a noi e che ci vedono come superiori e che ci invidiano in maniera tossica. E quindi ci umiliamo, ci abbassiamo, ci rimpiccioliamo, neghiamo la nostra capacità, neghiamo i nostri talenti, neghiamo il nostro potere, neghiamo la nostra luce. Addirittura ci sentiamo in colpa dei nostri talenti, delle nostre capacità, della nostra luce, della nostra abbondanza, perché ci sentiamo non meritevoli di esse, perché vediamo altre persone più sfortunate e sofferente di noi che vivono nella miseria e quindi riteniamo che noi non meritiamo di avere queste cose in più perché ci sono altre persone che non le hanno e quindi non è giusto che noi le abbiamo. Ad esempio mi ricordo addirittura, nel mio caso, un episodio che è abbastanza divertente, se vogliamo, sono cresciuta con dinamiche ben più tossiche, ma questo è un modo un po' divertente per farvi capire questa dinamica. Mi ricordo che crescevo e vivevo in Italia ed andavo a scuola in Italia da bambina. Uno dei talenti che avevo è che ero molto brava a disegnare e c'erano dei bambini in classe che mi invidiavano e questi bambini a un certo punto hanno convinto l'insegnante a peggiorare i miei voti perché non era giusto che io avessi un talento in più degli altri. E io effettivamente in quell'episodio ho iniziato a sentirmi in colpa del fatto che avessi i miei talenti. Ho iniziato a pensare che fosse ingiusto che io fossi così brava a disegnare e gli altri no. Questo è un episodio un po' divertente, innocuo, ma per farvi capire come funziona l'invidia invertita. E ovviamente così come l'invidia roiettata o esterna o abusiva è estremamente dannosa per la società, anche l'invidia invertita lo è. Perché se noi ci teniamo nel buio, reprimiamo i nostri talenti, ci nascondiamo nelle nostre capacità, nel nostro potere, nella nostra luce, se noi non riveliamo i nostri doni, i nostri servizi, i nostri strumenti, se non li condividiamo col mondo, se non li diamo alla società, il mondo perde. Il mondo viene deprivato del nostro dono, del nostro talento, di quello che abbiamo da offrire. E quindi partecipiamo alla miseria, alla scarsità e alla povertà del mondo. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!